My Deutz Far, la app per il tuo trattore. Sempre in contatto con il tuo concessionario di fiducia. Da qui puoi effettuare una chiamata telefonica, ottenere le indicazioni stradali per raggiungerlo, essere sempre connessi. Rimani aggiornato sugli eventi locali e nazionali sulle news dal mondo Deutz Far e dal tuo concessionario di riferimento. Partecipa ai sondaggi per condividere con Deutz Far e il tuo concessionario la tua opinione e i tuoi suggerimenti. Potrai connetterti con il sito Deutz Far per avere informazioni sulla storia del marchio e sulla gamma trattori di corrente produzione. My Deutz Far, sempre più vicini, sempre al tuo servizio.